Castiglione di Sicilia, uno dei borghi più belli d'Italia, si prepara a vivere una notte di straordinaria spiritualità con la quinta edizione della Notte Sacra in programma domani, giovedì 8 agosto. Questo evento unico sarà un incontro di arte, musica e preghiera, arricchito da significativi messaggi ispirati alla testimonianza di Sant'Agata, Vergine e Martire. Quest'anno la manifestazione sarà impreziosita dall'arrivo della reliquia del velo di Sant'Agata proveniente dalla cattedrale di Catania. Sant'Agata sarà celebrata come esempio di virtù e di fortezza. Le chiese, i vicoli e le piazze di Castiglione di Sicilia forniranno uno scenario suggestivo per una notte illuminata da un messaggio di speranza. Don Horatio Greco, il paroco, afferma che l'obiettivo di questa notte è vivere insieme un'esperienza di fede e devozione, sarà un momento di spiritualità e comunione per testimoniare l'amore vero.